Ciao a tutti, nuovo video, finalmente sono qua a presentare il video più atteso del canale il Bookshelf Tour, vi faccio vedere tutti i libri nella mia libreria o più o meno infatti vi faccio vedere le due librerie, chiamiamole, della maturità, diciamo dalle superiori in poi tutti i libri precedenti, quindi dell'adolescenza e dell'infanzia, mi interessa poco farveli vedere sono comunque in un'altra zona della casa, non sono in ordine e quindi vi faccio vedere solo i libri di cui sono più fiero due disclaimer iniziali, tutti i libri che sono nelle due librerie sono libri che ho letto non metto in libreria libri che non ho letto, i libri che non ho letto ve li faccio vedere poi alla fine del video tutti i libri nella libreria sono in ordine alfabetico per autore, questo è il modo in cui ordino i miei libri perché è l'ordine che mi piace di più, lo trovo più efficiente, anche più bello, mi piace avere i libri dello stesso scrittore tutti vicini e mi piace soprattutto ordinare dove posso all'interno di ogni autore i libri in ordine di uscita probabilmente è una paranoia però mi piace averli ordinati così quindi partiamo, spero che il video non sia troppo lungo, spero che la luce sia buona, che si vedano tutti i titoli visto che nel video torneranno degli autori di cui ho letto tutti i libri vi lascio qui sotto in descrizione i link alle monografie, ai video monografici che ho fatto sul canale dove parlo più approfonditamente di quegli autori e dei loro libri, delle loro opere quindi senza ulteriori induci partiamo iniziamo dal primo scaffale dove ci sono fumetti, fumetti italiani per la maggioranza in tutti gli scaffali dietro ai libri ci sono fumetti, fumetti americani, fumetti francesi però oggi non ne parliamo allora partiamo con i libri che non hanno un autore unico quindi come si scrive un romanzo pubblicato dal Omero edizioni a cura di Daniel Alarsson un po' di riviste letterari quindi la FLR è una rivista italiana molto interessante che pubblica racconti sia in italiano che in inglese quindi li traduce Freemans pubblicato da Black Coffee, due numeri di Granta tra cui questo che è veramente una bibbia Best of Young American Novelist Vol. 3 per tutti quelli che amano la letteratura americana un must poi due antologie di Minimum Facts Burned Children of America e The Best of McSweenies l'antologia di racconti peruggini a cura di Corrado Augas e poi partiamo con l'ordine alfabetico per autore con la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams sempre di Daniel Alarsson Di notte camminiamo in tondo romanzo bellissimo poi Edoardo Albinati che non è stato un pensiero infame e un adulterio Danze di guerra di Sherman Alexie e per tutti quelli che amano i film di Woody Allen Conversazioni su di me e tutto il resto che è veramente bellissimo Jonathan Ames Veloce come la notte Martin Amis Il dossier Rachel, Money e La freccia del tempo due romanzi di Ammaniti due che diciamo mi piacciono di più con Ammaniti ha un rapporto abbastanza particolare Branchi il suo esordio e il famosissimo Io hanno paura Donald Huntrim scrittore americano troppo poco conosciuto Votate Robinson per un mondo migliore il verificazionista e la luce Smeraldo nell'aria poi Paul Oster Trio G di New York che per me è il suo capolavoro assoluto Leviatano e 4, 3, 2, 1 un po' sopravvalutato Chris Buckhelder Orso contro il squalo e l'infortunio di Chris Buckhelder ho fatto una monografia tutte le monografie ve le lascio giù in descrizione Jesse Ball scrittore che probabilmente leggiamo solo io e altre due o tre persone Il settimo giorno Quando inizia il silenzio e How to set a fire and why che è ancora inedito in Italia Jacopo Bison Stalin più bianca e Le stelle che adanno tutte insieme un paio di romanzi di Julian Barnes Amore eccetera e L'unica storia John Barth il padre del postmodernismo americano L'opera galleggiante e Un saggio L'algebra e il fuoco Donald Bartham Biancaneve Fabio Bartolomei L'ultima volta che siamo stati bambini L'idiota di Alice Batuman Lo schiavista di Paul Betty vincitore del Man Booker Prize romanzo sicuramente interessante Geli delle scene d'inverno e La festa nera di Violetta Bellocchio A parte della libreria visibile perché ha le ante trasparenti di vetro abbiamo in prima fila tutti i romanzi come sempre in ordine alfabetico per autore dietro invece come vi dicevo abbiamo fumetti quindi fumetti americani graphic novel e poi tutto Dylan Dog là dietro che ovviamente non si vede davanti un po' di Funko Pop un po' di action figure e robe varie ripartiamo Frank Bidar Desiderio una raccolta di poesie editi da Thlon L'amore a vent'anni di Giorgio Bifarali e poi iniziano i libri di Roberto Bolagno il suo esordio Consigli di un discepolo di Jim Morrison Anversa I detetti selvaggi il miglior punto da cui iniziare con Bolagno e per quanto mi riguarda è per ora il suo romanzo migliore Amuleto e lo spirito della fantascienza che questi tre insieme formano una sorta di trilogia una vecchissima edizione di Faren't 451 di Ray Bradbury Americana di Luca Briasco che per chi ama o per chi vuole conoscere la letteratura americana contemporanea è veramente un must da non perdere Gillian di Elle Butler ancora inedito in Italia Lo straniero di Albert Camus L'animale femmina di Emanuela Canepa Come un giovane uomo di Carlo Carabba Ornamento di Juan Cardenas Tenere i Violenti di Carozzi e poi il mio amato Carrer la biografia di Philip K. Dick Io sono vivo voi siete morti Buffy che ho finalmente recuperato in questa vecchia edizione Bon Piani che è purtroppo fuori catalogo La settimana bianca L'avversario Un romanzo russo Vite che non sono la mia e Limonov Poi Carver questi sono diciamo il minimo indispensabile per conoscere Raymond Carver sono le tre raccolte di racconti pubblicati in vita e nella modalità editata quindi non quella integrale Vuoi stare zitta per favore Cattedrale e di cosa parliamo quando parliamo d'amore tutti e tre imperdibili Viaggio al termine della notte di Céline i romanzi di Michael Shevon e quindi i misteri di Pittsburgh Wonder Boys Le fantastiche avventure di Cavalere in Clay e Sognando la Luna Sul soffitto di Eric Shevillard Le ragazze di Emma Klein Player One di Ernest Klein Poi qualche romanzo di Jonathan Coy io adoro soprattutto quelli vecchi e quindi Donna per caso L'amore non guasta e Questa notte mi ha aperto gli occhi e poi uno più recente numero 11 Un'altra occupazione di Joshua Cohen che per me è il miglior romanzo pubblicato nel 2018 La vita perfida di Maris Condé Sorry to disprove the peace di Patty Yumi Cottrell Diodia al Giappone di Douglas Coupland Le ore di Michael Cunningham e poi due romanzi di Rachel Cusk le variazioni di Bradshaw che non mi è piaciuto per niente invece Outline che è quasi un capolavoro qui in fondo abbiamo il museo dei pesci morti di Charles D'Ambrosio una raccolta di racconti molto interessante ma soprattutto un saggio un altro saggio minimo che secondo me è imperdibile ed è non è un mestiere per scrittori di Giulio D'Antona chiunque si interessi di editoria statunitense veramente deve recuperare questo saggio La stanza di Therese di Francesco D'Isa Lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice e poi i miei romanzi di De Lillo Americana Rumore Bianco L'Uomo che Cade Running Dog Giocatori Mao II Punto Omega The Body Artist nell'edizione Picador originale ed è bellissima The Great John Street Cosmopolis e Zero K L'esordio di Andrade Carlo Treno di Panna Uomini e Cani di Omar di Monopoli Juno Díaz con Drone e così che la perdi La breve e favolosa vita di Oscar Wao La Svastica sul Sego di Philip K. Dick o di Philip Dijan La Coscienza di Andrew di I.L. Doctro Il racconto del barista di Van Doig Delitto e Castico di Dostoevsky nella nuova traduzione in Audi La Fine dei Vandalismi di Tom Drury Due romanzi di Jeanne e Schnoor Un anno e Inviata Speciale i miei diciamo romanzi di Umberto Eco perché tutti gli altri sono nella libreria di mio padre Il nome della Rosa Il cimitero di Praga e Numero Zero e una raccolta di piccoli saggi piccoli articoli che è stata pubblicata subito dopo la morte di Umberto Eco Papa è stata Naleppo Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan Manhattan Beach sempre di Jennifer Egan e poi i romanzi di Dave Eggers l'opera Struggente di un formidabile genio Ologramma per il re Il cerchio I vostri pradi dove sono e I profeti vivono forse per sempre che nonostante abbia un titolo lunghissimo è veramente molto bello Eroi della frontiera e Il monaco di Mokka Abbiamo Rockaway Beach di Jill Einstead e poi Il maestro Bratiston Ellis Meno di Zero Le regole dell'attrazione American Psycho Acqua dal sole Glamorama Lunar Park che è assolutamente il mio preferito è Imperial Bedrooms La perfezione del tiro di Mattia Ennard un po' di Nathalem Glander quindi il ministero dei casi speciali di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank e Una cena al centro della terra Le vergini suicide di Eugenides e un'altra cosa sull'amore sempre di Eugenides L'urlo e furro di Faulkner Mentre morivo di Faulkner Da lontano Sembravo Mosche di Kik e Ferrari Joshua Ferris anche su di lui ho fatto una monografia e poi siamo arrivati alla fine Non conosco il tuo nome Svegliamoci pure Ma un'ora decente e l'ultima raccolta di racconti che invito a cena Dimenticare di Peppe Fiore The Side of Paradise di Fitzgerald che preferisco nettamente al Grande Gatsby Sulla pelle di Gillian Flynn e tutti gli altri romanzi di Gillian Flynn Nei luoghi oscuri The Grown Up e L'amore bugiardo Eccomi di Jonathan Safran Foer Come stare soli che è un saggio di Jonathan Franzen e poi quasi tutti i suoi romanzi manca solo libertà La ventisettesima città Forte movimento Le correzioni Purity I romanzi di Luciano Funetta quindi Dalle rovine e Il grido I vivi e morti di Andrea Gentile e Il signore delle mosche di William Goldwing Poi abbiamo Andrew Sean Greer fresco vincitore di Pulitzer anche se non sono molto convinto di questo premio Le vite impossibili di Greta Welsh e Les per l'appunto il vincitore del Pulitzer poi Lauren Groff di cui dovrei fare una monografia anche se devo ancora leggere Arcadia che ho e devo ancora leggere I mostri di Templeton Delicati uccelli commestibili Fatto e furia e Florida Lunedì blu di Arnon Grunberg Tieni fermato Corona di Yannick Kennell poi un libro che quando è uscito ne parlavano in tanti ma che poi sembra sparito dalla circolazione secondo me totalmente in modo immeritato Città in fiamme di Gart Riesk Alberg un esordio da 7-800 pagine un libro veramente massiccio ma molto interessante ambientato a New York negli anni 70 Asimmetria di Lisa Halliday L'arte di vivere in difesa di Chad Hardback Benedizioni di Kent Arouf La parete di Marlene Haushofer Prima di cadere di Noah Hawley I 49 racconti e il dacchio ormai di Ernest Hemingway Ragioni per vivere di Amy Ampel questo ve lo faccio vedere perché questa edizione fuori catalogo ma adesso Sam l'ha appena ripubblicata sono tutti i racconti di Amy Ampel se non avete mai letto i racconti di Amy Ampel non avete mai letto i racconti americani perché è assolutamente la miglior scrittrice di racconti americani Il Nyx di Nathan Hill stesso discorso per quanto riguarda Garth Riesk Alberg uno scrittore che ha esordito con un libro massiccio di cui si è parlato molto ma che poi è sparito un po' dalla circolazione un altro romanzo che vale molto la pena di recuperare The Fireman di Joe Hill poi A.M. Holmes Jack e la sicurezza degli oggetti e poi abbiamo Michel Welbeck con estensione del dominio della lotta le particelle elementari la carta del territorio sotto missione un piccolo saggio in presenza di Schopenhauer e ovviamente serotonina di cui ho fatto un video settimana scorsa lo lascio giù in descrizione il settimo giorno di Yu Hua tutti gli uomini di una madre di Carrie Hudson mescolo tutto di Jasmine in Crettolli schiavi di New York di Tama Gianovitz Jesus Son di Dennis Johnson un matrimonio americano di Tagliari Jones che ho odiato abbastanza Sonny Liston era mio amico di Tom Jones la metamorfosi e tutti i racconti pubblicati in vita di Franz Kafka e poi on writing di Stephen King io non amo Stephen King non amo i suoi libri e neanche il suo stile in realtà però questa che è una sorta di autobiografia ma più che altro un manuale di scrittura è uno dei testi più preziosi sulla scrittura che abbia mai letto questa invece è la seconda libreria diciamo la mia parte della libreria in corridoio è tutta visibile perché ha Leante in vetro e ci sono tutti gli altri romanzi fino alla Z di Nel Zinc partiamo ripartiamo ovviamente da Stephen King questi sono i primi due volumi della Torre Nera il primo mi era piaciuto il secondo decisamente meno 22-11-63 l'idea molto bella io come vi dicevo prima con King ho un po' di problemi questioni delicate che ho affrontato con l'analista di Matthew Clem Il corpo che vuoi di Alexander Cleman che è diventato uno dei miei romanzi preferiti in assoluto veramente una chicca Selva Oscura di Nicole Krauss quando qualcuno chiede esiste un Philip Roth al femminile Nicole Krauss è esattamente questo L'ignoranza di Milan Kundera Indecision di Benjamin Kankel Lacrime bianche di Ari Kansru The Mars Room di Rachel Kashner che verrà pubblicato fra poco da Einaudi in Italia poi Catherine Lacey un scrittrice veramente interessante nessuno scompare davvero è stato il suo esordio le risposte aveva un soggetto molto più forte del primo ma è riuscito un po' peggio Crudo di Oliver Lange Onky Tonk Samurai di Joe Lansdale Ballo di Famiglia di David Lewitt Lincia Rossa e altre storie di Rebecca Lee e poi Ben Lerner il mio amato Ben Lerner di cui anche per lui trovate una monografia le figure di Lichberg è la sua prima raccolta di poesie pubblicata in Italia da Thlon e poi un uomo di passaggio nel mondo a venire e un piccolo pamphlet odiare la poesia Jonathan Lethem Amnesia Moon La fortezza da solitudine Non mi ami ancora Chronic City Alan un uomo fortunato e altri racconti e Anatomia un giocatore d'azzardo che io comunque consiglio anche a chi non ha letto niente di questo autore Se questo è un uomo e la tregua di Primo Levi Richard Yates di Taolin Taolin è un autore folle Cometa di Gregorio Maggini Un sogno americano di Norman Myler sempre americani nel novecento Il commesso di Bernard Malamud e gli inquilini sempre di Malamud Il ventisettesimo anno di Marco Mancassola Un posto dove stare di Francesca Manfredi che è una raccolta di racconti italiana veramente veramente valida L'alfabeto di fuoco di Ben Marcus Esperimento americano di Benjamin Markowitz L'arcipelago della nuova vita di Andrei Machine Solar di Ian McEwan e poi qualche libro di McEarney il resto sono nell'altra mensola Le mie luci di New York Riscatto e La luce dei giorni Questi sono gli altri libri di McEarney quindi tanto per cambiare e Professione Modella che è probabilmente il mio preferito anche se è fuori catalogo un romanzo veramente veramente bello Il club degli uomini di Leonard Michaels e Silvia di Leonard Michaels questi sono gli unici due romanzi pubblicati da Michaels in vita e probabilmente ci voglio girare una monografia prima o poi Jonathan Miles un autore americano di cui si sente pochissimo parlare questo era il suo esordio Dear American Airlines ancora inedito in Italia e Scarti secondo me è uno dei migliori romanzi americani pubblicati negli ultimi anni Il troppo del cancro di Henry Miller Rapimento di Susan Minot Attio Sceni Il luogo privato di Marco Missiroli che tra poco uscirà con il nuovo romanzo per Enaudi Cloud Atlas di David Mitchell e poi Patrick Modiano o Modiano o dirsi voglia Nel caffè della gioventù perduta Dall'oblio più lontano L'erba delle notti e Ricordi dormienti tre romanzi di Rick Moody anzi due romanzi e una serie di novelle La Tempesta di Ghiaccio Rosso Americano e Tre Vite L'isola di Arturo della Morante Gli Indifferenti di Alberto Moravi in questa edizione bruttissima poi un paio di romanzi di Moresco quindi Gli Esordi e Il Grito quasi tutti i libri di Ottessa Moshfeg Aileen Nostalgia di un altro mondo e ovviamente My Year of Rest and Relaxation che spero che Feltina li porti in fretta in Italia Dance 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 e l'incolore Tazaki Tsukuru di Haruki Murakami Lolita Inabokov e le lezioni di letteratura di Inabokov La Casa del Mancontento di Sasha Naspini Il Simpatizzante di Vietan Nguyen la lezione di Alissa Nutting Essere una macchina di Marco Connell e Una Famiglia Americana e L'Uccellino del Paradiso di Joyce Carol Oates con cui ha un rapporto così e così Le Tirole Selvagce di Paula Oloi Xalak 1984 di George Orwell Le Più Fortunate di Julian Pacico e Due Romanzi di Francesco Pacifico Il Caso Vittorio Le Donne Amate e Fight Club di Chuck Polanick Trilobiti di Brice Pancake di Ferro ed Acciaio di Laura Pariani un po' di Pasolini quindi gli scritti corsari e Petrolio Tokyo Transit di Fabrizio Patriarca Il Maestro di Scherma La Tavola Fiamminga e Il Cecchino Paziente di Arturo Perez Reverte Due Romanzi di Tom Perrotta L'insegnante della Stinenza Sessuale e Svaniti nel Nulla Poi Lo Spazio Sfinito e Il Dono di Sapere di Tommaso Pincio Galveston di Nick Pizzolato che è il creatore di True Detective Rispirazione Artificiale di Riccardo Piglia Teodoro e Dorotì di Alexandre Postel Il Fabricante di Echo e Orfeo di Richard Powers ovviamente qui abbiamo La Ricerca del Tempo Perduto di Proust nel meraviglioso cofanetto Burr Il Bacio della Donna Aragna di Manuel Puig Poi abbiamo un po' di James Poore di Malcolm e Il Nipote un po' di Pinchon L'incanto dell'849 Vizio di Forma e L'Arcoballone della Gravità che è l'unico romanzo in libreria che non ho ancora letto perché è troppo grande da stare in altri posti Miden di Veronica Raimo Il Sesso e la Lotta di Nicola Ravera poi la versione di Barney di Mordecai Ricler Gli Autonai di Luca Ricci qua abbiamo sempre un raccontino di Luca Ricci tra Scurata e Milano due romanzi di Gianluigi Recuperati La Scomparsa di me e Est Un'educazione milanese di Alberto Rollo Nel Cuore della Notte di Marco Rossari bellissimo parlarne tra amici di Sally Rooney bruttissimo poi abbiamo ovviamente Philip Roth questi sono i Philip Roth che posseggo e quindi Lamento di Pornò Il Professore Desiderio Lo Scrittore Fantasma Zuckerman Scatenato Ingano Operazione Shilok Il Teatro di Sabbat Pastrana Americana Sposato Un Comunista La Macchia Umana Everyman Indignazione E la raccolta ai saggi perché scrivere La Caduta dei Golden di Salma Rushdie e poi un po' di Salinger Il Giovane Holden Novi Racconti e Franny Esui La Stanza Profonda di Vani Santoni e sempre di Vani Santoni L'Impero del Sogno Le Intermittenze della Morte di José Saramago La Nausea di Jean-Paul Sartre e poi Tutto Sonders di cui devo velocemente girare una monografia tra poco Il Declino delle Guerre Civili Americane Pastoralia Nel Paese della Persuasione 10 Dicembre e ovviamente Lincoln nel Bardo con quale ha vinto il Man Booker Prize Apocalisse di Tiziano Sclavi Il Figlio del Secolo M Il Figlio del Secolo di Antonio Scurati Ultima uscita per Blukin di Hubert Selby Jr Clessida di Dani Shapiro Il Manuale del Debuttante Russo di Gary Steingard Lontano da Ogni Cosa di Mattia Signorini Quella Luce Negli Occhi di Bennett Sims Il Contagio di Walter City La Donna che si è tagliò la gamba al Maidstone Club di Giulia Slevin Ninna Nanna di Leila Slimani e da qui inizia Zaddy Smith con Denti Bianchi Ripartiamo con Zaddy Smith quindi L'Uomo Autografo il mio preferito della Smith Della Bellezza e NW e L'Ultimo Swing Time oltre alla raccolta di Saggi Feel Free Due romanzi di Dana Spiotta Vivere un Segreto e Innocenti e Gli Altri Poi Quasi Tutto St. Tobin quindi I Melrose Lieto Fine e Senza Parole Mezzanotte per Sempre di Jerry Stahl Furore di John Steinbeck Una vita non mia di Olivia Sudic Tutto Quello che è un uomo di David Soleil assolutamente consigliato a chiunque è un insieme di racconti non proprio una raccolta ma una sorta di romanzo episodi veramente veramente bello Mio assoluto amore di Gabriel Talent Le vite potenziali di Francesco Targhetta Dio di illusioni e il cardellino di Donna Tart Tabù di Giordano Tedoldi All Your Own Resta te stessa di Kate Tempest Altri Libertini di Pier Vittorio Tondelli Aspettando I Naufraghi di Orso Tosco di Emanuele Trevi Sogni e Favole Private Citizens di Tony Tulattimut Tulattimut Poi un po' di John Updike Il Centauro bellissimo Cori Coniglio e Il Ritorno di Coniglio che sono i primi due della tetralogia di Coniglio e Coppie Un Marito di Michele Vaccari Poi abbiamo la trilogia dell'area X di Jeff Vandermeer Annientamento Autorità e Accettazione Questo romanzo molto bello di Roberto Venturini Tutte le ragazze con una certa cultura hanno almeno un poster di un quadro di Scile appeso in camera oltre al titolo geniale è molto bello Poi abbiamo un po' di William Vollman quello che sono riuscito a trovare quindi i Fucili Zona Proibita e Ultime Storie e Altre Storie Scrittori di Antoine Volodin L'Ordine del Giorno di Eric Villar e un po' di David Foster Wallace quindi La Ragazza da Capelli Strani che io consiglio a tutti se si vuole iniziare con Wallace La Scopa del Sistema Ovviamente Infinite Jest e Brevi Interviste con Uomini Schifosi Salvare le ossa di Jasmine Ward Heather più di tutto di Matthew Biner L'Uomo di Marte di Andy Weir La Fia dell'Ottimista di Eudora Welty L'Ospite d'Onore di Jay Williams e poi un po' di Colson White L'Intuizionista John Henry Festival Il Colosso in New York Apex Nasconde il Dolore Seg Harbor e La Ferrovia Sotterranea con cui ha vinto Pulitzer e National Book Award I capelli di Harold Rooks di Thomas Williams I figli della polvere di Colin Winnett Due romanzi di Don Weaslow Le Belve e L'Inverno di Frankie Machine Un discorso ottenuto da Thomas Wolfe Storia di un romanzo pubblicato da Fazzi Low Boy di John Ray Una sorta di Il Giovane Holden 2.0 Tony e Susan di Austin Wright Una vita come tante di Anya Yana-Giara Disturbo e la poetia pubblica di Richard Yates Tutto il male finché dura di Paolo Zardi e Nicotina di Nell Zink Oltre 11 settembre una raccolta di racconti e saggi ovviamente sull'11 settembre che ho messo qua perché non sapevo dove mettere Questi invece sono una parte dei libri che devo ancora leggere lasciate perdere tutto il casino qui a fianco sono nella parte più bassa della libreria abbiamo La zia Giulia e lo scrivacchino di Mario Vargasiosa Tutti gli intellettuali giovani e tristi di Kate Gessen Pamela e i suoi vestiti di Tama Gianovitz Eastman Was Here di Alex Gilvery che è il compagno di Alexandra Kleeman Arcadia di Lauren Groff l'ultimo romanzo della Groff che mi manca per completarla diciamo Guardami di Jennifer Egan The Long Take di Robin Robertson un poema narrativo chiamiamolo così che era candidato quest'anno al Man Booker Prize e poi abbiamo Il Tempo Mima Canzone di Richard Powers Il Valser degli Adi di Milan Kundera Prima che te lo dicano Alte di Marino Magliani La Fine di Alice di A.M. Holmes Generazione X di Douglas Coupland L'Informazione di Martin Emmis Book of Numbers di Joshua Cohen Tutti i racconti di John Cheever Il Piccolo Amico di Donna Tart Daedalus di James Joyce Luce d'Agosto di William Faulkner Tokyo Blues ovvero Norwegian Wood di Haruki Murakami Musica per un Incendio di sempre di A.M. Holmes Uomo Invisibile di Ellison Due Biondi Pieni di Rabbia di T. Cooper Manhattan Transfer di John Dos Pasos Una Sfortunata Mattina di Mezz'Estate di Will Self Joshua Allora e Oggi di Mordecai Rickler Ultima pila di libri che devo ancora leggere partendo dall'alto abbiamo L'Addio di Antonio Moresco L'Animale Notturno di Andrea Piva Perduti Nei Quartieri Spagnoli di Eddie Goodrich L'Arte di Sbagliare di Catherine Schultz Cercasi Batterista Chiamare Alice di Rick Moody Lisbona Ultima Frontiera di Antoine Volodin Per chi suona la campana di Ernest Hemingway Census di Jesse Ball nell'edizione originale La Cresta dell'Onda di Thomas Pynchon Sei Ricco Coniglio di John Updike We Are Family di Fabio Bartolomei Pelle di Corteccia di Annie Proulx e poi The Over Story di Richard Powers senza la sua copertina che non so in questo momento dove sia Bene questi erano tutti i libri all'interno delle mie due librerie vi ho fatto vedere anche i libri che non ho ancora letto spero che il video non sia stato troppo lungo non sia stato troppo noioso e che vi abbia intrattenuto e vi sia piaciuto fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate se avete dubbi o domande esprimeteli pure noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao